Siamo nuovamente nella redazione del Corriere Caserta a Piedi Montematese per parlare di elezioni comunali. Alife, comune storico, stiamo parlando con un altro consigliere per la lista Uniti per Alife. Si tratta del dottore Alfonso Sant'Agata e abbiamo avuto già modo di parlare attraverso diversi articoli del suo programma e un po' le sue osservazioni. Oggi è venuto in studio, quindi dottore benvenuto e ci parla un po' di questa campagna elettorale e dei progetti futuri che vorrà perseguire. Dunque, io mi sono candidato sempre con il pensiero e con la voglia di apportare al mio Paese qualcosa in più. Cercare di dare, cercare di essere disponibile come sono stato sempre, come sono. Anche per il lavoro che faccio, faccio il medico, per cui c'è una distorzione della persona che cerca di dare sempre alle persone, di essere disponibile e di collaborare, cercare di dare aiuto. Questo è stato sempre il mio motto della politica, perché la politica, se noi descriviamo proprio come senso, è quello di essere disponibile con la gente e per la gente. Quest'anno vedo che è una campagna elettorale equilibrata, una campagna elettorale alquanto corretta, a parte quelle piccole cosettine che succedono sempre, ma sono sempre all'ordine del nulla. Sono solo quelle piccole avversità legate alle liste, però non c'è mai niente di serio e ognuno combatte nel proprio ruolo, nel proprio ambito della lista. Però quello che vedo è che c'è cordialità, non si è scesi nei particolari, è solo una lotta politica, questo è quello che vedo. Lei non è nuovo dell'esperienza politica? No, assolutamente no. In parte questa è la terza volta che mi candido, la prima volta che mi sono candidato nel 2004, poi ebbi una bellissima affermazione, fu il primo eretto in assoluto, nel 2009 mi candidai a sindaco con una lista quasi rinnovata al 100%, non vingemmo però portammo un bel risultato a casa, circa 1700 voti, per cui io rimasi felicissimo perché con una lista di ragazzi, di giovani portammo a casa un discreto risultato. e poi nel 2011 con l'amministrazione Avegone pure ebbi un bellissimo risultato, il primo eretto presi circa 500 preferenze, per cui la gente con questi risultati credo che mi vuole bene, è un bene di stima e di rispetto reciproco perché voi sapete che nella vita bisogna essere disponibili, bisogna ascoltare e soprattutto poi in politica è ancora più importante perché io credo nell'ascolto, perché oggi ci sono delle grosse difficoltà legate all'economia, oggi ci sono delle famiglie che a sento riescono a mettere il piatto a tavola, per cui ci sono grosse difficoltà, però tutto è superabile con un poco di buona volontà, un poco di sacrificio, anche perché gli alifani, e io sono un alifano doc, sono nato, cresciuto e vivo ad Alife con la mia famiglia, gli alifani sono molto laboriosi, gli alifani sanno quello che vogliono, quando debbono calare, chinare la testa per lavorare e per impegnarsi lo sanno anche fare. Vogliamo parlare di un po' la tematica dei lavori pubblici che lei ha affrontato nella precedente amministrazione? Sì, sì, è così, nella scorsa amministrazione ho fatto l'assessore dei lavori pubblici per due anni e mezzo, lavori grossi non ce ne sono stati perché naturalmente le casse del comune erano povere, per cui ho programmato, ho programmato un bellissimo progetto legato alla rete fognaria sulle strade che scendono dalla frazione San Michele ad Alife e poi tutto il rifacimento delle fogne via Regno Ponzo dove ci sono dei problemi legati alla perdita perché c'è un tratto dove è franata la strada e anche le case hanno avuto dei problemi su un distesto idrogeologico. Se ricordo bene, intorno ai 6 milioni di Euro, un lavoro importante, poi progettai, essendo responsabile anche dell'illuminazione pubblica, il rinnovo e la messa in sicurezza di tutto l'impianto elettrico con la sostituzione delle lampade a LED, quindi per il risparmio energetico, poi la ristrutturazione delle strade interne del Paese, insomma ho fatto una discreta progettazione per il Paese. Nonostante dicevamo l'altro giorno con difficoltà economiche. Con grosse difficoltà economiche perché voi sapete quando purtroppo io immagino il Comune una grossa famiglia, quando in una famiglia non ci sono o ci sono poche entrate o ci sono debiti, il problema, ogni cosa diventa grossa e diventa pesante. Io quello che voglio dire è che mi sono ricandidato sempre con la speranza di cercare di dare qualcosa in più per il mio Paese, perché lo merita. Il mio Paese merita molto di più e io appunto mi sono candidato con una lista quasi rinnovata al 90%, con un sindaco che ringrazio di avermi candidato, con un mio collega, il dottore Sciro, il mio collega medico mutualista, a cui inizio io a fargli gli auguri per la carica di sindaco. Gli faccio veramente gli auguri di cuore, sperando che possiamo arrivare a questa bella vittoria. Allora noi vi auguriamo buon lavoro e soprattutto un buon proseguo di campagna elettorale. La salutiamo. Grazie, grazie a voi e alla prossima. Grazie a voi.